Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato ed egli disse loro venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po' erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte molti però li videro partire e capirono e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero sceso dalla barca egli vide una gran folla ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno un pastore e si mise a insegnare loro molte cose parola del Signore Oggi gli apostoli ritornano dal Vangelo di domenica scorsa ci raccontava il loro invio la loro missione e oggi finita finito questo giro missionario gli apostoli tornano e raccontano a Gesù la bellezza di quello che hanno vissuto tutto quello che avevano fatto e insegnato e allora Gesù dice adesso come dire riposatevi venite in disparte solo voi e io in un luogo deserto andiamo a fare diremo oggi un momento di ritiro andiamo a incontrare il Signore e a incontrare i fratelli un po' a stare fra di noi per ritrovarci no? c'è bisogno di staccare siamo nel tempo dell'estate ma anche a livello spirituale c'è bisogno ogni tanto di stare soli con il Signore perché dice Marco c'era tanta di quella gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di mangiare erano assediati dalle persone e allora prendono la barca e vanno in un luogo che pensavano essere deserto sul lago in disparte e invece quando arrivano là trovano che li avevano seguiti con gli occhi e si erano spostati e quando arrivano il luogo non è più deserto ma c'è una grande folla Gesù si poteva arrabbiare e dire ma guarda ci rovinano anche un momento di riposo un momento di preghiera un momento di tranquillità avevamo abbiamo fatto un programma un progetto e invece e invece Gesù non si arrabbia ma dice il Vangelo quando vide una grande folla ebbe compassione di loro perché erano come pecole senza pastore e si mise a insegnare tante cose ecco come dire Gesù è capace di modificare i suoi programmi anche programmi in cui aveva pensato di avere un po' di tempo per sé e per i suoi 12 e accoglie il bisogno delle persone il desiderio degli uomini e si mise a insegnare molte cose è bella questa compassione di Gesù questo sguardo che vede le ferite vede il desiderio vede la fame e la sete di parole di vita vede la ricerca di felicità che tutti portiamo dentro e invece di arrabbiarsi o di fuggire Gesù ebbe compassione ci guarda con questo sguardo di amore perché legge le nostre ferite e nostre fatiche e si mise a insegnare loro molte cose è la sua parola che risana è la sua parola che guarisce è la sua parola che ci fa nuovi che questo tempo estivo sia per tutti noi anche un tempo per ascoltare di più la parola di Dio per trovare spazi di silenzio per stare un po' con Gesù e anche per allenarci allo stesso sguardo di compassione sui fratelli su coloro che soffrono su quelli che più hanno bisogno di una parola di vita